L'oroscopo del mese di marzo, iniziamo con i segni di fuoco e partiamo dalla riete. Siamo nelle immediate vicinanze della primavera, il suo profumo vi mette le ali. Evitate di essere soliti e egopatici, ricordate di fare parte di un dutto e con esso dovete condividere cambiamenti importanti, specialmente nel settore lavorativo, ma anche in amore. La consapevolezza, la ponderazione, sentirsi parte di un tutto all'interno della propria individualità. Passiamo al leone. L'inizio di marzo è un po' difficoltoso, carico di problemi e è arrivato il momento per rivisitare i progetti. Il cambiamento è dietro l'angolo e il vostro modo di concepire il successo vi porterà a cambiare strada. Attenzione alle illusioni finanziarie, controllate l'orgoglio, evitate i litigi, le arrabbiature, possono ritorcersi contro voi stessi. Parola d'ordine, pazienza. Passiamo al sagittario. Il mese è abbastanza impegnativo, di difficile gestione. Utilizzate questo periodo per analizzare i vostri progetti e il vostro modo di concepire il quotidiano. Più avanti questa riflessione si dimostrerà utile e si prospetteranno nuove vie, nuove occasioni lavorative. In amore le cose vanno molto bene, ponderazione e tutto andrà bene. Grazie. 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 Grazie.